Dobbiamo tornare alle nostre dimensioni normali. Non mi va per niente di essere scambiato per una ciuda! Wow! Ma come facciamo ad andare così in alto? Non lo so, amico. Non abbiamo nessuna mega-auto volante a portata di mano. Oh, forse sì. Seguitemi! Ok! Oh, il drone è fuori controllo! Ehi! Penso di averci finalmente preso la mano.